Tutti che hanno fatto intravenimento di Frattesi intanto, eccolo, contro Hernandez, Correa, gibile il suo tentativo, Frattesi la toglie proprio per sfondare di fisica, non ce la fa, Frattesi, Lautaro un po' di spazio, non granché il palano allargato su Quadrado, recupera, ripropone in mezzo Frattesi di testa, era al di là, non riesce come gli si era messo il pallone, scelto di controcrossare, ma palla buona per Frattesi, si allarga Esposito da una parte e dall'altra Correa, Frattesi sceglie, Esposito che piazza, entrato dalla panchina, subito, con l'interno del destro, alle spalle di Donnarumma, ripareggio dell'Inter. Frattesi di prima, palla che passa, e Stefano Sensi, raddoppia per l'Inter, partita ribaltata, Esposito e Sensi, gli uomini che non ti aspetti.